Una limitata porzione di area verde, quella compresa tra via Nobiliore, Lungofoglia Caboto e via Donzelli, quartiere di Soria, limitata porzione di terra che però potrebbe diventare terreno di una torre di telefonia alta 30 metri. Questo è quanto è emerso dalla determina pubblicata sull'albo pretorio del comune di Pesaro di concessione di suolo pubblico alla azienda di telefonia Iliad per costruire qui questa mega antenna con parabole e stazioni radio. Un'opera complessa che è arrivata all'orecchio dei residenti grazie alla segnalazione dell'associazione ambientalista, residenti che ieri sera si sono ritrovati per parlarne, per confrontarsi su questa clamorosa ipotesi del comune sul quale si è contestato soprattutto la mancanza di concertazione con il quartiere per una opera di impatto davvero clamoroso. residenti che si sono ritrovati ieri davanti alla sede del quartiere in Baia Flaminia proprio per protestare contro questo argomento e confrontarsi sugli eventuali sviluppi. Ovviamente non la vogliamo sotto casa perché a parte che il quartiere è molto bello e quindi viene deturpato, ricordiamoci che fra qualche anno Pesaro è stata decretata città della cultura quindi queste saranno zone molto battute, la zona mare dove passeggeranno perché abbiamo una lunga ciclabile che costeggia tutto il fiume e mentre passeggia il turista vede una bellissima antenna alta 30 metri con sei parabole, non so se è una cosa bella da vedere. Tenuto conto che Ricci su Facebook parlava anche di il patrimonio culturale che dobbiamo rilanciare nella provincia di Pesaro Urbino o poi deturpare così una zona mare, non mi sembra una cosa molto intelligente. Ricordiamoci sempre che le radiazioni possono dare emicrania, insonnia, nervosismo, sono impatti anche dal punto di vista di salute e non da poco. Io credo che i terreni comunali siano tanti, presenti in tutta la provincia di Pesaro Urbino e vedo difficile pensare che non ci sia un altro posto dove collocare un'antenna. Lo stiamo verificando, sono, dico la verità, anche in imbarazzo perché io sono nel consiglio di quartiere soprattutto per rappresentare la gente, diciamo che sono l'anello di congiunzione tra la gente e il comune. Il comune dice di non avere responsabilità, di non essere in grado di contrastare le scelte di Iliad. La gente dice che quello non è il posto giusto per mettere un'antenna e su questo io sono d'accordo con la gente, non è il posto giusto per mettere un'antenna. Ora vedrò assieme all'amministrazione se è possibile fare proposte alternative e cosa si può fare eventualmente per impedire che venga messa proprio in quella posizione perché è tra le case, non vicina alle case, tra le case. L'iniziale ipotesi ancora più clamorosa è stata di fatto smentita. L'area indicata è quella che la torre Iliad dovesse sorgere nel piccolo fazzoletto di terra all'inizio di via Nobiliore all'angolo con lungo foglio a caboto. L'area indicata è quella leggermente più ampia, qualche metro più avanti all'intersecazione con via Donzelli, ma poco importa, l'impatto sull'area residenziale è davvero evidente e lo fanno notare anche i consiglieri comunali di centrodestra che hanno protocollato una interrogazione in consiglio comunale da presentare sull'argomento. Il tema è quello che come al solito l'amministrazione impone e non dialoga con i propri cittadini. Anche in questo caso è stata un'imposizione completa, il quartiere non è stato avvisato in nessun modo, neanche informato, non solo coinvolto. A questo punto l'interrogazione ha il valore di far sapere alle persone quali scelte ha preso l'amministrazione, come mai proprio in quella zona e soprattutto quali sono state le azioni che l'amministrazione ha eventualmente messo in atto per cambiare zona. Quella è una zona particolarmente spiacevole per installare un'antenna, quali sono le iniziative che ha portato avanti l'amministrazione e quali sono anche gli studi che sono stati eventualmente messi in atto per tutto quello che è il tema della salute e della sicurezza e dei cambiamenti che porterà a quest'opera.